Meno trionfale di quella di John Kennedy e meno cordiale di quanto sarebbe stata solo pochi mesi fa. La visita a Berlino del presidente statunitense Obama risente del datagate e delle polemiche che ne sono seguite, ma per molti berlinesi il problema principale sta nei disagi che la visita ha creato ai cittadini. C'è voluto un livello di sicurezza altissimo, la polizia ha costretto la gente che abita sul percorso di Obama a tenere chiuse le finestre e questo mi pare un po' troppo. Mi dispiace per la gente che ha delle attività vicino ai posti visitati da Obama, non potranno aprire i loro negozi. Troppi posti di blocco, io avrei voluto vederlo, specialmente durante il suo discorso alla porta di Brandeburgo. Proprio attorno al monumento simbolo della città si è registrato il massimo livello di sicurezza. Le forze speciali e gli agenti di polizia hanno letteralmente isolato la zona, per diverse ore rimasta irraggiungibile agli stessi abitanti della capitale. Grazie!